Wabalawa dab dab e bentornati su Nomamamazzo, cari lettori di Dilan Dog. Oggi parliamo di una pessima annata, ovvero di Dilan Dog numero 412. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, mettere una campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno d'ora in poi, di condividere il video con tutte le persone che amano il vino, credo, non lo so, e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo video e di iscrivervi anche a tutti gli altri miei social che vedete qui di seguito e sotto in descrizione dove potete cliccare. Dilan Dog 412, una pessima annata, titolo clickbait che strizza l'occhio a quello che è successo nel 2020, ovvero al pessimo anno che tutti noi a livello globale abbiamo vissuto. Questo titolo può anche involontariamente far felici dei trattori di questo nuovo corso di Dilan Dog, iniziato con il soft reboot del numero 401, che poi ha compreso tutto il ciclo 666 ad opera di Roberto Recchioni ed è andato avanti con i numeri successivi. Dei trattori che appunto potrebbero considerare questa annata pessima. Chi mi conosce sa che io ho apprezzato il ciclo 666, potete andare a vedere per esempio i video che ho fatto in questa playlist di Dilan Dog in cui ne ho parlato, però anch'io ho le mie remore, per esempio il numero 406 si è concluso molto in fretta, poteva benissimo andare avanti per un altro numero e lasciarci un riepilogo un po' migliore di tutto questo ciclo. Invece sono uscite per i due mesi successivi delle storie indipendenti e dopo di queste storie è uscita un altro miniciclo di tre numeri. Tutte queste storie sono state palesemente pensate per un Dilan Dog pre-ciclo 666 e state poi riadattate, palesemente riciclati perché appunto erano studiati per il Dilan Dog pre-meteora o per il Dilan Dog pre-ciclo 666 o per il Dilan Dog old boy, non per questo Dilan Dog post-ciclo 666. E soprattutto nelle storie con Manacerace questa cosa si è sentita tantissimo. Anche questo numero sembra avere lo stesso peccato, ovvero come detto dallo stesso Orecchioni nella prefazione, è una storia che era stata pensata un po' di tempo prima e conclusa solo adesso. E si nota per certi aspetti anche in questa storia, il fatto che questa storia stessa sia stata pensata per un Dilan pre-ciclo 666, come per esempio il fatto che Rania e Carpenter si vedono solo per un paio di tavole alla fine. Però questa cosa non pesa tantissimo come per esempio nel ciclo che abbiamo appena finito, quello di Manacerace. La storia di questo mese che conclude l'anno quantomeno è fresca, è giovane, si respira nella scrittura e nelle tavole anche la voglia di fare qualcosa di nuovo. Di solito io faccio sempre un piccolo video su Instagram in cui vi mostro solo le tavole, cosa che farò anche questo mese sicuramente, ma in questo numero in particolare non si può scindere tra i disegni e la sceneggiatura perché vanno a braccetto come non mai. Ovvero, ci sono tre ambientazioni, una al tempo presente e la vediamo scandita dalle pagine con lo sfondo bianco, una nel flashback e lo vediamo con le pagine con lo sfondo nero, e una ancora nelle visioni che hanno i protagonisti, che sono sempre pagine con lo sfondo nero, che hanno i riquadri però frastagliati. Bisogna prestare molta attenzione a questa divisione, altrimenti ci si perde un pochino, in particolar modo per quanto riguarda la parte delle visioni, che possono mandare un pochino fuori strada sulla lettura se si pensa che sia semplicemente un flashback, soprattutto perché le visioni in sé sono un po' prolisse, nel senso che ci mostrano un nemico che parla in modo molto prolungato della guerra tra i poveri, tra i contadini e tra la nobiltà che li sfrutta, e non capiamo dove vuole arrivare fino alla fine del numero. Quindi bisogna stare un pochino più attenti da questo punto di vista. Purtroppo il finale di questo numero ha lo stesso difetto del ciclo 666, ovvero che finisce un po' in fretta e furia, è come se avessero quasi finito le pagine, come se queste 98 pagine non bastassero, ce ne volevano magari 105 per finire più con calma, però diciamo che nell'epilogo c'è una scena finale, un po' cliffhanger, in cui si vede l'erede che raccoglie questa maschera di questo nemico, di questo numero, l'erede di questa maledizione che raccoglie appunto il testimone di questa maschera, di questa maledizione. E noi sappiamo chi è l'erede solo se facciamo caso al dettaglio, ovvero all'orologio che porta. Vediamo bene nell'ultima pagina che chi raccoglie la maschera indossa un orologio e nella storia vediamo per un paio di tavole chi è che possiede questo orologio da polso. Quindi fatemi sapere se voi siete state attenti, se avete dovuto tornare indietro a rileggere questa cosa, se proprio non ci avete fatto caso, io sono nel mezzo, quindi ho capito che il fatto che hanno fatto scintillare l'orologio poteva essere sintomo che era legato a qualcosa all'interno della storia e così sono andato a riprendere per capire chi era che aveva preso questa maschera. Non l'ho detto all'inizio, lo dico adesso, la storia e la sceneggiatura è di Alessandro Bilotta, che è lo stesso autore di Landog, il pianeta dei morti, mentre i disegni sono di Luca Casalguida. Vorrei proprio complimentarmi dal punto di vista anche dei disegni, perché sono davvero giovani, nonostante anche qua ci sia una griglia abbastanza classica, da sei pagine, poi lo dirò anche nel mio video di Instagram, si sente proprio la freschezza, ma anche nel disegno stesso, al di là della griglia, tutti i personaggi, nonostante appunto siamo in un ambiente bonelli, che quindi ci abitua a un certo tipo di disegno, mi ha fatto trovare molta freschezza. Sono quel tipo di disegni che potrebbero essere in bianco e nero, potrebbero essere a colori e comunque sembrerebbero a colori. Non so se mi sono spiegato bene. Diciamo che si entra tranquillamente nella tavola. Le donne disegnate in questo numero sono bellissime, vorrei poter dire la stessa cosa degli uomini, deve essere stato molto crudele, nel senso che ha fatto anche degli uomini molto brutti, come il primo che finisce male per mano del serial killer, chiamiamolo serial killer, mentre mi sono piaciuti anche tantissimo proprio l'aspetto di Dylan Dogg, sempre bellissimo, e l'aspetto di Groucho, un po' meno ricciolino, con un capello un po' diverso, ma che lo rende anche quasi più giovane, e mi è proprio piaciuto. In generale, diciamo che il disegno mi è piaciuto tanto quanto, se non di più, della storia stessa. Un'ultima chicca che non riguarda Dylan Dogg, ma riguarda me, quindi il canale non mi ammazzo, ma anche me come persona, dovete sapere che io con Dylan Dogg condivido una certa cosa, ovvero anche io sono astemio, non per gli stessi motivi di Dylan Dogg, fortunatamente non ho passato da alcolista, anzi, non ho mai toccato alcol, e quindi non vorrei brindare con voi a questa pessima annata, ma lo devo fare con l'acqua per mantenermi nel character di Dylan Dogg, e anche per mantenere fede alla mia astemia totale. Quindi mi presto a brindare con voi a questa pessima annata che abbiamo passato insieme, e sperando che ce ne sia una leggermente migliore, non facciamo sogni troppo esagerati, e vado subito a fare l'analisi organolettica di questo fantastico bianco. Che traccannata! Dopo questo brindisi, come sempre vi dico che con l'inchino e con l'imbuto vi saluto, e vi dico arrivederci al prossimo anno! Ehi, non te ne andare, perché se clicchi qua in questi riquadri, qui a lato, per esempio, troverai un sacco di altri simpatici video che ho fatto io. Dai, cliccaci, per favore, cliccaci! Grazie. Grazie! Grazie.